E' passato quasi un anno dalla consegna delle firme raccolte per la petizione Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Roccister di Caltanissetta che si rivolgeva al primo cittadino, all'assessore ai lavori pubblici, ai consiglieri comunali e all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico. Più di 800 infatti cittadini che avevano deciso di sostenere l'idea del completamento di un'arteria considerata decisiva per velocizzare il collegamento tra la zona nord e la zona sud della città e che adesso vede una possibilità concreta di realizzazione dato che il progetto ha ottenuto un finanziamento così come è stato annunciato dall'amministrazione comunale nei giorni scorsi. Gli stessi architetti che avevano promosso nel dicembre del 2020 la petizione e iscritti all'omonimo gruppo sui social esprimono dunque la soddisfazione per il risultato raggiunto un'opera che sarebbe stata prevista da più di 30 anni dal PRG così come spiega l'architetto Giancarlo Larocca. Due anni dopo il nostro impegno sembra venne impremiato la mia città, la nostra città è riuscita ad ottenere un finanziamento di 4 milioni e 800 mila euro da destinare alla realizzazione di questa importantissima arteria viaria che congiungerà la via Rocister con la via Romita dotandola così della circomballazione prevista ormai da più di 30 anni nel piano regolatore generale di Caltanistetta ma mai realizzata. Il progetto finanziato riguarda i lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla via Romita alla via Rocister. È stato proprio il fattore ambientale scrivono con la previsione di inserire nel progetto di collegamento la pista ciclabile che va a chiudere un percorso che dal viale della regione passando per il quartiere Balate si passa al quartiere San Luca ad essere stato decisivo nell'ammissibilità dell'opera. Adesso si pensa anche alle tempistiche dato che il progetto dovrà essere realizzato entro il 2026. È un risultato certamente notevole che in breve tempo è stato raggiunto. Ringraziamo infatti l'amministrazione comunale e la persona del sindaco Roberto Gambino e di tutto l'ufficio tecnico che ha potuto partecipare a questo bando in maniera così veloce e consentendo di raggiungere questi risultati. Ricordiamo che oltre alla strada che congiunge via Romita con via Romita ci sono anche altri 11 progetti che sono stati finanziati. Adesso il passo successivo è quello di dover bandire la gara per l'affidamento dell'incarico di presentazione e deve essere fatto in tempi relativamente brevi perché ci sono un bel po' di adempienze e in ogni caso siamo fiduciosi e siamo contenti anche a nome di tutta la città.